Grazie della presentazione, un po' un onere e un onore soprattutto davanti alla signora Ferrero portare e aprire avanti una presentazione di questo tipo. La mia sarà una presentazione un po' globale. All'inizio ci porto la parte pediatrica, poi il passaggio all'età più avanzata. Anticipo che sui mille giorni, mentre sono d'accordo sulla parte gravidica, la parte successiva la estenderei, non è che si finisce ai mille giorni. Tutta l'età pediatrica, e vi darò dei dati, è un po' sottoposta alla stessa legge dei mille giorni. Questa è una diapositiva che ho rubato a Matteo, Cesari, e che riassume proprio quell'articolo già presentato, cioè i due estremi della vita che si incontrano, le due dita di Dio e di Adamo nella cappella Sistina, il padre e il figlio, e tutta la life course che adesso analizzerò più brevemente. Nel senso che cercherò di darvi un riassunto di decine e decine di pubblicazioni che si riassumono essenzialmente per il pediatra nel cercare di capire, fin dalle prime epoche, e va bene, ma come si estende questo effetto delle prime epoche successivamente, a partire dall'unica epoca analizzabile veramente, perché c'è un unico tipo di alimento che è il latte materno o artificiale. Allora, fino agli anni, qui al puntatore, vabbè, comunque vi spiego a voce. Quella linea retta che vedete è la mediana di crescita calcolata secondo delle vecchie curve di crescita degli anni 50, più di 50.000 bambini negli Stati Uniti che comprendevano allattati al seno e non allattati artificiali. Oppa, scusate, così ho scoperto che funziona. Non funziona, forse non lo so usare bene io. Comunque, questa è la prima pubblicazione che nel 1995 mette in evidenza come gli allattati al seno abbiano una curva di crescita differente se noi mettiamo insieme gli allattati al seno allattati artificiali. Per cui nel 1995, e parlo solo di 25 anni fa, ci fu una sola pubblicazione che dimostrò che gli allattati al seno raccolti in questi sei paesi crescono molto nelle prime sei settimane, ma dopo hanno una modalità di crescita differente, cioè scendono nel peso fino a un adir a 12 mesi per poi risalire. Quindi è una shape of curve diversa, non che siano destinati a un difetto di crescita. Sulla base di questo l'OMS costruì nuove curve di crescita, prendendo cinque paesi che erano Norvegia, Nord America, Stati Uniti, Oman, India e Brasile. Mancavano Cina e Giappone, ma c'erano delle questioni politico-organizzative perché hanno delle altezze diverse queste popolazioni, e costruì le nuove curve di crescita che adesso, sotto il nome di Antro, costituiscono i programmi su cui ci basiamo per valutare la crescita dei bambini. Che è molto semplice, questo era il vecchio programma del 2006 che si poteva usare solo su personal computer, oggi su questi iPhone potete scaricare dalle 10 alle 15 app in cui potete usare le stesse procedure, mettere la data di nascita, la data dell'assessment, il peso, la lunghezza, la circonferenza cranica, avete la traduzione nei percentili di crescita del bambino. Come sono questi percentili? Questa è la lunghezza per età, ve li faccio vedere come esempio dei bambini, questa è la lunghezza per età 0 a 5 anni delle bambine, questo è il weight for age, il peso, vi faccio notare una cosa, siccome i percentili dividono la popolazione per cento, noi abbiamo tra il terzo percentile, queste sono unità di deviazione standard, al quindicesimo percentile siamo a meno unità di una, due unità scusate di deviazione standard, tra il cinquantesimo e il quindicesimo abbiamo una unità di deviazione standard, dal cinquantesimo all'ottantacinquesimo abbiamo, ok, vedete, una unità di deviazione standard in più e dall'ottantacinquesimo al novantesimo due unità di deviazione standard in più. Vi faccio notare una cosa, se voi pensate alla curva gaussiana, tra il terzo e il cinquantesimo percentile, cioè in due deviazioni standard, stanno uno, due, tre, quattro quadretti, tra il cinquantesimo e il novantasettesimo percentile, stanno uno, due, tre, quattro, cinque, sei, questo significa che il peso si disperde più avanti nel sovrappeso, già precocemente, e questa legge è uguale per i maschietti, come per le bambine, uno, due, tre, quattro quadretti qui, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, cioè il sovrappeso è più disperso fino alle forme maggiori di sovrappeso, questo è il senso di queste diapositive, riconosciute dal WHO, mentre questo non si verifica per l'altezza dove la curva gaussiana è più o meno esatta, ok? Perché uno, due, tre, quattro, cinque, sei, uno, due, tre, quattro, cinque, cioè è la stessa, uno, due, scusate, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, quasi nove, cioè è uguale per l'altezza, quindi significa che il peso, quando va oltre la mediana, non va secondo la gaussiana, ma va asintoticamente ad aumentare. Perché l'allattato al seno ha questa modalità di crescere. Si sono scatenati a fare teorie sui grassi, sulle proteine, sugli zuccheri, ma la realtà è più semplice. Quando l'MS ha confrontato la quantità media di latte materno presa dai bambini, vedete che con l'allattamento al seno, da paesi ben sviluppati, noi passiamo da 700 alla fine del primo mese a 800 al quinto mese, cioè aumenta di poco, di 100 cc, la capacità lattogena della donna. Mentre, questo è un altro studio, un altro commento che ho fatto con Frank Bloomfield, neozelandese, se noi vediamo le raccomandazioni in due centri americani, di cui uno, un ospedale, quello di Filadelfia, che costruiscono i fabbisogni del bambino in base alla curva di crescita del bambino. Vedete che mentre la quantità minima suggerita incontra le quantità fatte dalla mamma, le quantità massime suggerite arriviamo quasi al doppio. Questo è anche verificato nella vita di tutti i giorni, cioè una mamma attacca al seno il bambino, voi potete vedere, la somma è 7-800, ma quando prende il biberon, che va dai 250 ai 330 cc, e sono cinque pasti, sono 1500. Quindi è abbastanza lampante come il comportamento alimentare è diverso. E qui arriviamo al primo clou. Ma cosa succede di paradossale che nessuno sa? cosa può portare in termini di metabolismo dopo i 40-50 anni e sulla questione della sarcopenia? Che l'allattato artificiale in termini assoluti ha un peso di massa magra maggiore, ok? Ma in termini di percentuale l'allattato artificiale ha meno grassi rispetto all'allattato al seno fino a circa nove mesi di vita. Questo è un paradosso. Il latte materno è effettivamente più iperlipidico rispetto alla formula. È una composizione lipidica, la ricordo, in cui predomina l'acido palmitico nella posizione 2 dei trigliceridi. Acido palmitico ci potremmo fare tutto un discorso a parte. Però il bambino allattato al seno, che è il modello naturale, accumula più grasso percentualmente anche se l'allattato artificialmente in termini assoluti ha più massa magra. Quanto questo abbia un effetto sulle epoche successive è tutto da vedere. L'allattamento al seno è stato associato a ogni parametro in termini di miglioramento rispetto all'allattato artificiale, dal quoziente neurointellettivo alla capacità immunitaria al numero minore di infezioni. Solo in una cosa è stato associato ai vari studi a un effetto più peggiore rispetto all'allattamento artificiale che sono le carie. Questo perché probabilmente l'allattamento al seno, avendo un attaccamento più frequente, espone il bambino al famoso ambiente orale che più favorisce i carie. Ma per tutto il resto è stato associato a indici migliori, anche perché sono state utilizzate però popolazioni in maniera trasversale, non la stessa seguita in maniera longitudinale. Per esempio le lipoproteine, le LDL, seguendo popolazioni trasversali, è stato pubblicato da un epidemiologo famoso, Martin, inglese, che le LDL erano più basse negli allattati al seno, ma in maniera trasversale, non erano gli stessi soggetti seguiti in follow-up, è chiaro? E non abbiamo notizie sulle condizioni socioambientali a cui erano esposti questi soggetti. Quindi il punto di domanda rimane. Faccio un piccolo commento. Perché le mamme non allattano al seno? Per insicurezza, per fattori esterni, perché sono abbandonate in Italia, manca il supporto effettivo a uno o due mesi. Una mamma che si scoraggia finisce, termina l'allattamento al seno e il pediatra magari non ha la pazienza di seguirla perché vede il peso che diminuisce. E qui subentrano questioni psicologiche per cui si sostituisce o prima si supplementa l'allattamento al seno con latte artificiale, poi uno passa assolutamente al latte artificiale. La mia opinione personale è che se anche ha qualche pasto artificiale, di tenere l'abitudine di una o due poppate al seno, almeno fino ai 12 mesi, perché favorisce il binding materno-figlio, madre-figlio e quindi dal punto di vista psicoaffettivo e ambientale può comunque avere un effetto positivo. La crescita è una caratteristica dei bambini ed è la crescita in peso in particolare un forte indice, indicatore dello stato di salute del bambino. Faccio vedere questa diapositiva per paradosso da uno studio che abbiamo fatto, eravamo in clinica pediatrica al San Paolo, allora, sui bambini atopici. Allora, qui ci sono i controlli sani, allattati al seno secondo le vecchie curve di Waterloo che vedete aumentano all'inizio e diminuisce come atteso successivamente. L'allattato artificiale va su. Questi sono i sani. Questi sono bambini con eczema atopico diagnosticati a quattro mesi di vita. C'è la curva dell'allattato al seno e dell'allattato artificiale. Questi sono stati diagnosticati a quattro mesi, ma il peso cominciava a scendere a due mesi. L'eczema relativamente agli altri. L'eczema, sappiamo, o la condizione allergica predispone a un più elevato turnover cutaneo anche nelle mucose. Il bambino con eczema può cominciare ad avere prurito, ha un disturbo del sonno, c'è una minor produzione del GH anche, che non influisce però sulla misurazione della lunghezza e dell'altezza, ma che potrebbe avere un profondo effetto sulla crescita in termini ponderali. Questo è un indicatore banale, perché non erano tante deviazioni standard di differenza. Per esempio, posso dire, esperienza personale, i bambini con figli di mamma HIV, tu potevi predire negli anni 80-90, quando non c'erano le possibilità di una diagnosi come oggi, in base all'andamento del peso, chi si sarebbe ammalato e chi era invece solo portatore degli anticorpi e poi si sarebbe negativizzato. Quello che noi dobbiamo evitare in età pediatrica si dice, qui andiamo, vedete, oltre mille giorni, l'early adiposity rebound, c'è l'accelerazione di crescita. Tenetevi a mente questo concetto, la growth acceleration, perché è questo che va evitata a ogni età. C'è una meta-analisi che dimostra che fino a 30 anni la growth acceleration, cioè il cambio di una deviazione standard in termini di peso in uno o due anni rispetto all'altezza, gira male. Cioè uno dovrebbe coincidere il più possibile, entro i termini di una deviazione standard, la differenza tra peso e altezza. Cos'è l'adiposity rebound? Mentre fisiologicamente il BMI, l'indice di massa corporea, chilifratometri al quadrato, diminuisce fino a sei anni e poi progressivamente aumenta, con l'early adiposity rebound non abbiamo questa diminuzione, ma vedete c'è un progressivo aumento del BMI, dell'indice di massa corporea e non questa discesa, perché il BMI associato a questo early adiposity rebound sarebbe il primo indicatore dell'obesità. Quanto poi l'obesità rispetto alla sarcopenia entra in associazione, anche questo nessuno lo sa, l'obesità precoce. E qui una dimostrazione del perché la growth acceleration va male a tutte le età. Questi sono dati retrospettivi raccolti da Barker, che è il padrino della teoria dell'early origin of adult disorders, of communicable disorders. Non so fare la storia di Barker, che è un po' particolare. Ha preso una popolazione in Stoccolma che ha avuto una patologia cardiaca, o è morto, è stato ricoverato per patologia cardiaca e sono andati a ritroso sulla growth acceleration. Allora, questi sono i maschi e queste le femmine. L'effetto è più marcato nelle femmine, vedete come il BMI, l'indice massa corporea, insieme al peso si stacca a 6-8 anni e a questo incremento di quasi mezza deviazione standard. Quindi una growth acceleration, anche in questa età, ma c'è una metanalisi che dimostra che anche nell'adolescenza e successivamente all'adolescenza, questo fenomeno della growth acceleration si associa a un stato metabolico meno favorevole successivamente. Come dire, la growth acceleration non voglio entrare nella terza età, che è una cosa diversa, ma anche in età adulta avrebbe un effetto negativo. C'è un riflesso socio-economico, nel mio titolo c'era lo scenario globale. Certo, perché se andiamo a vedere i dati sull'allattamento al seno, siamo davanti a dei paradossi. Allora, l'OMS dice allatta al seno due anni e più se la mamma e il bambino lo desiderano. Allora, vediamo gli indici di benessere dell'agenzia Bloomfield del 2017. I paesi con più elevato assistenza sanitaria, longevità, cioè c'è un punteggio, uno score particolare che mette insieme indicatori di salute sono l'Europa, Australia, Corea e Giappone, Nord America, gli Stati Uniti un po' meno. By the way, oserei dire, Giappone, area mediterranea e area baltica coincidono con le diete che vanno oggi di moda. La mediterranea, la giappo-nipponica e la nordic diet, cos'hanno in comune? L'elevata presenza di antiossidanti e la storicità, cioè hanno delle ragici storiche. Contrariamente alla dieta americana, oggi si riscopre un po' la storicità delle diete del Sud America. America. Ma quando vediamo la persistenza dell'allattamento al seno a 12 mesi, guardate, esattamente l'inverso. Cioè a 12 mesi allattano ancora i paesi delle realtà più povere, l'Africa, il nord-est asiatico e Sud America. Come dire, l'allattamento al seno che viene raccomandato dappertutto, unitamente, non dico i 24 mesi, ma i 12 mesi, con almeno quella modalità di attaccamento al seno, che vuol dire persistenza a 12 mesi, rimane l'ultima chance per alimentare i paesi poveri, perché non hanno altro, perché quando sono divezzati devono passare alla cassava o ad altri cereali con basso potere nutrizionale. E rimane un'opzione che per assurdo hanno le classi socio-economico più elevate nei paesi occidentali. In Inghilterra, guardate il colore bianco, le donne alizza un mese il 7% allatta ancora, perché devono tornare precocemente al lavoro, hanno una legislazione che non gli permette, che non permette a queste nelle città industriali inglesi di continuare. Solo il nord Europa ha molti asili nei posti di lavoro, nei nidi dove lavorano le mamme. I paesi sud-europei non hanno, a Milano negli ospedali, forse ne esiste uno, mi guarda che non so se ancora l'abbia, ma non esistono queste opportunità. Certo, i paesi nordici hanno un'estensione elevata a fronte di una popolazione ristretta. Quindi qua il dato socio-economico diventa paradossale, perché invece in Africa, dove vediamo queste percentuali, abbandonano l'allattamento al seno le classi più ricche, intellettualmente più avanti, per liberarsi dalla schiavitù, ve lo dico male, dell'allattamento al seno della donna. Quindi nei paesi occidentali è la classe ricca che può permettersi di continuare a allattare, sono pochi. Si arriva a 12 mesi al 10%. I paesi africani sono le classi più povere, che sono la maggioranza, che vanno avanti con l'allattamento al seno come unica risorsa. Questo è un paradosso per la sostenibilità che andrebbe preso in considerazione, perché da questo poi ci possono essere le conseguenze che tutti sappiamo perché arriva la malnutrizione. Ma la malnutrizione non protegge dall'obesità. Dopo lo vediamo. Certo che si è sviluppata su tutto questo il concetto che lo zip code, il codice d'avviamento postale, possa determinare la salute successiva. Gli anglosassoni ci sono molto affazionati, anche in termini di allattamento al seno, your zip code is the major determinant of future health. Questo è un altro concetto che a livello di studi è andato avanti. Ma come vediamo da questa pubblicazione del Lancet recentissima, il double burden of malnutrition è che non solo chi nasce grosso, ma anche chi nasce piccolo, quindi in condizioni svantaggiate, può andare incontro in età adulta e successivamente all'obesità e alla sindrome metabolica. Perché? Perché sia la sottonutrizione che l'ipernutrizione possono aumentare questo rischio nelle prime età della vita. Perché il piccolo può andare incontro alla growth acceleration successivamente per il recupero di peso, dopo la nascita. Ma chi nasce grosso per età gestazionale, più di 4 kg, più di 4 kg e mezzo, magari la mamma è diabetica, molte volte è diabetica, non riconosciuta, però ha già avuto la growth acceleration in utero. Quindi continua la teoria della growth acceleration come fattore prognostico negativo che si associa a condizioni nell'età adulta. Nessuno sa, per l'età oltre 60-70 anni, ma anche gli studi trasversali non ci dicono effettivamente l'indice di rischio successivo, perché non sono la stessa popolazione. C'è un che mi piace mostrare gli studi sperimentali, ma in questo caso mi piace spiegarlo. Matteo, tempo ancora? Cinque minuti? Devo stringere, ok. È fatta su topi di laboratorio. State attenti, ci sono tre gruppi. Uno nasce da un gruppo, uno è rappresentato da un gruppo che è nutrito secondo gli standard normali durante la gravidanza, durante l'allattamento, attraverso la mamma e poi è shiftato al prodotto purina, quello odiale per animale, e l'altro al junk food. Poi c'è il catch-up growth, che è malnutrito in gravidanza e ne dall'allattamento recupera la gravidanza. Poi c'è il post-natal low protein, cresce molto bene in gravidanza e successivamente viene tenuto quasi leggermente sottonutrito. Per immaginare l'età media, provate a dividere per 10. Allora, il gruppo che va, secondo le raccomandazioni, analogo, diciamo, traslazionalmente, 76 anni per quello che si comporta male come dieta, che si incomporta bene, scusate, come dieta, è 71 per chi fa la junk food. Quelli che sono nutriti poco in gravidanza e successivamente ipernutriti 56 anni per chi, un analogo, è ben nutrito e 51 se seguono la dieta, diciamo, non corretta. Ma quello che più sorprende sono questi, cioè quelli ben nutriti in gravidanza che mettono via più riserve e successivamente sottonutriti in cui non solo c'è una durata di vita maggiore spontanea, ma sparisce quella differenza tra nutrito bene e nutrito male. Questo adesso vado via veloce. Qui ci sono tutte le caratteristiche di chi è predisposto ad obesità, entrambi i genitori obesi o anche di origine povera, di extraeuropea, diciamo. E anche in Italia l'obesità in età pediatrica è associata al PIL delle regioni. Quanto è più basso il PIL di una regione, quanto, che in questo caso, quanto è maggiore l'incidenza di obesità. C'è lo sviluppo di tutti gli organi durante i primi vent'anni, 17-20 anni, anche questo spiega perché si estende oltre i primi mille giorni questo rischio che ho detto e certamente dopo i primi giorni si sviluppa tutto quello che in collegamento allo stato socio-economico, alla mancanza di attività fisica, al fumo, si traduce in un accumulo del rischio che ci spiegherà bene Matteo Cesari. Qualche anno fa è stato pubblicato questo articolo su Science. Sui bambini non facciamo particolari raccomandazioni, ma basterebbe che uno avanzasse nel piatto due o tre forchettate o cucchiai di quello che abitualmente mangia e fare un miglio in più al giorno a piedi per ridurre quel rischio davanti a un'ipernutrizione relativa, come quella di quegli animali sperimentali. È una studio di Nicolas Hale e Susanne a Cambridge erano i numeri uno degli studi di questo tipo che predispongono l'obesità. Questo è il bambino feto alla termine 2001 di Sia nello spazio. Siamo davanti a un'era in cui per anni continueremo a studiare la relazione tra l'early nutrition e la sarcopenia, la prevenzione e il mantenimento dell'efficienza nell'adulto. Tuttora non vi so dire se queste differenze che in età pediatrica sono accertate e che continuano fino almeno all'età dell'adolescenza con qualche suggerimento nell'età adulta, contribuiranno in qualche modo a maggiori conoscenze sul perché o come prevenire la sarcopenia dell'adulto e dell'anziano. Anche perché, e finisco, l'allattamento al seno è il modo naturale di alimentare, e purtroppo ancora lo è, nella povertà e nell'evoluzione. Ma non affronta i cambiamenti tecnologici e di ambiente di oggi. Per cui noi speriamo che l'allattamento al seno, per esempio, faccia bene e che evitare la growth acceleration, c'è qualche prova in più, prevenga questo. Ma non possiamo dirlo se non in un wishful thinking. Ho finito.